Volendo dare delle indicazioni alle famiglie che vogliono in questo momento sapere a chi rivolgersi se dovessero aver saltato una vaccinazione per l'HPV, dove andare ad informarsi, dove andare a fare lo screening, dove andare a fare la vaccinazione, considerando appunto la variabilità nazionale, che cosa possiamo dire loro? Per informarsi rispetto a quelle che sono le caratteristiche di accesso agli screening, alla vaccinazione per l'HPV e a tutte le attività che sono proposte da un'assistenza territoriale, il punto di primo ascolto, di prima indicazione è sicuramente lo studio del proprio medico di famiglia, anche perché i modelli organizzativi possono essere diversi da regione a regione e addirittura da azienda ad azienda. Si spera che il medico di famiglia sia stato informato all'interno di quel sistema e possa indirizzare il paziente o addirittura essere lui stesso ad attivarsi per praticare lo screening o la vaccinazione addirittura presso il suo studio. Abbiamo molte regioni in cui questo è attivo e quindi il paziente ha una risposta allo screening e alla vaccinazione di assoluta prossimità e di assoluta disponibilità ovviamente per le corti che sono previste. Per quelle che non fossero previste il paziente può acquistare il vaccino e rivolgersi comunque al proprio medico di famiglia per praticarlo e per farlo inserire eventualmente sulle piattaforme vaccinali in modo che praticamente la consistenza delle coperture generali italiane abbia quel valore che tutti ci aspettiamo tenda al 90%. Quali sono le corti oggi previste per la vaccinazione? Le corti partono dalle ragazze e dai ragazzi che compiono gli 11 anni, quindi in questo momento parliamo dei ragazzi del 2011-2012 in linea di massima. Questi sono i soggetti che possono, soprattutto con le ultime vaccinazioni, soprattutto la non avvalente, fare solo due somministrazioni a distanza di sei mesi. I soggetti più adulti o che abbiano già contratto il virus devono invece rivolgersi all'offerta regionale che anche in questo caso, ahimè, può essere differenziata. Ci possono realtà in cui è previsto un co-payment, cioè il cittadino paga una parte, una parte lo paga l'azienda sanitaria oppure deve acquistarlo il soggetto. In questo caso le vaccinazioni sono tre, ma hanno dimostrato efficacia anche i soggetti che hanno già contratto l'HPV perché formalmente gli permettono di evitare le recidive e di tenere sotto controllo questa virosi che ci rimane nell'organismo e quindi il potenziamento immunitario ci difende dalle possibili trasformazioni.